In questa sala costruita dentro il municipio di Messina, negli anni 30, dopo la ripostruzione del telemoto, potete notare in ausro un attesto di Romano che rappresenta il fascismo con il di tutte le sue incorporazioni. La sala è la sala in cui si è allestita una famosa mostra dedicata tanto meglio da Messina a 1953. In questa sala sono portate tutte le manifestazioni pubbliche da Messina, manifestazioni volibili e manifestazioni culturali. In questo momento ospita una dimostrazione di tango. Sembra proprio che il comune di Messina non abbia altro modo per tenere impegnati i Messina a esso. Ecco le salone dell'effetto dove è stato festeggiato il quarantesimo anniversario dei parchi che hanno visto la condizione della CECA, Organizzazione Europea del Carbone. Nel 1955 a Messina ci fu una storica riunione tra i ministri del Carbone che ci dirono condando la base di quella che poi diventerà il Parlamento, l'Unione Europea e il Parlamento Europeo. In questa sala si riuniono con i ministri. Adesso si ballettano.